lo ripeto perché forse non si è capito 537 avete visto i reportaggi di guerra quando si sente qualche cibo sono morte 20-30 persone si addrezzano i caperi provate a contare di 537 persone siamo un'ora a contare i nomi e i cognomi io ho visto il liber mortuomo la chiesa di San Lorenzo di Sola Liri dove sono paginate e paginate di questi nomi tutti morti riportati dal prete al sacerdote 537 persone e di questa faccenda non se ne sapeva niente io quando qualche anno fa ho fatto un articolo e l'ho inviato io collaboro con un giornale che si chiama Stori in Rete che è di una mondatura quando ho fatto questo articolo l'ho inviato per la prima volta in unica mi ha chiamato il direttore io il direttore non lo conoscevo neanche dice Riccardi senti avevi mandato questo artino sì ma è vero e direi tu perché me lo sono inventato io no perché la cosa era capricciante noi dobbiamo fare un servizio c'è queste cose che dove saranno allora è finito qui perché nel proseguire la loro fuga arriva dall'abbazia di Casavaro sì sì io lo so territorio diverso però per esempio che è un'altra cosa che è stata che si chiama Stori in Rete che si chiama Stori in Rete